Sul campo c'era l'annullamento delle universiadi, il rinvio delle universiadi e lo sfilamento complessivo di fronte a problemi tutto sommato non enormi. Ieri c'è stata una volontà fortissima della città di Napoli e non solo della città di Napoli, ho molto apprezzato diversi interventi tra cui quelli del governo, che quindi le universiadi si possono e si debbano fare, che non ci sono problemi insomontabili, che per gli impianti sportivi il comune di Napoli a fine luglio aggiudicherà tutte le gare, il tema che è rimasto è quello che il CONI e le federazioni devono mettere in campo la loro programmazione, che ovviamente metteranno in campo appena sarà definito il 13 luglio il quadro generale, è rimasto in campo le opzioni su dove fare il villaggio, che non è come dire uno il villaggio del comune e l'altro il villaggio della regione, c'è la proposta del commissario e della FISU che è il villaggio, dopo che per mesi e non c'era nulla perché delle navi non c'era ancora nulla e finora c'è solamente una nave, ieri si è preso atto che il Presidente della regione in qualche modo ha detto che per lui è improponibile solamente il villaggio, siccome per noi è prioritario fare le universiadi e non c'è una battaglia di religione abbiamo sempre dato la disponibilità a trovare un obiettivo che possa contemperare tutte le esigenze. Grazie a tutti! Grazie a tutti!